Vuole rispondere a Matteo Renzi? Ma no, non devo assolutamente rispondere. Anche perché voglio dire poi che queste sono sceneggiate, esibizionismi personalistici che non ci interessano. Dico la sostanza, noi abbiamo la possibilità, perché quella riforma che Renzi ha fatto è una riforma che ha fallito, perché ha concentrato il potere ancora di più nell'amministratore delegato che è diventato anche direttore generale e non ha risolto alcun che, anzi, ha aggravato i problemi. Adesso è veramente urgente intervenire. Io dico, mettiamoci intorno al tavolo. Ha provato a chiedere a Draghi come stanno le cose? Guarda, io con il Premier Draghi mi sento spesso e ovviamente anche recentissimamente, però mi permetta, non è che dico in TV i contenuti delle telefonate, io però sto dicendo che ancora oggi e anche leggendo i giornali non si capisce quale sia stato il criterio applicato se non accogliere le stanze di tutte le altre forze politiche. attenzione anche dell'opposizione, ad eccezione del partito di maggioranza relativa che è stato, ha avuto la fiducia di 11 milioni di cittadini. A proposito di Renzi e dell'inchiesta Open, lei ha posto 13 domande a Renzi, il Movimento 5 Stelle ha proposito di Open, i finanziamenti, i rapporti con i paesi esteri. Ma non nell'interesse del Movimento 5 Stelle, nell'interesse dei cittadini. Però la prima cosa che noto è che lei pone le domande, Renzi ha fatto, vuole porre le domande a voi, ma voi non vi volete confrontare, cioè lei non vuole incontrare Renzi. Secondo lei rispondere per affrontare quei temi? Sì, perché non si confronta? Scusi un attimo, per affrontare quei temi, quei 13 punti che sono ben articolati e ruotano tutti intorno, non a vicende giudiziarie, e io ovviamente con la presunzione di... Guardi, lo dico pubblicamente, auguro al senatore Matteo Renzi di uscire indenne da tutte queste inchieste, va bene? Presunzioni di docenza sono più garantista di lui. Però c'è un problema di coscienza morale, di etica pubblica. I politici devono rispondere come sempre lui ha detto in passato, quando andava in tv a esibire i conti correnti da 15 mila euro e a dire che se si supera quella cifra bisogna rispondere perché c'è qualcosa che non va, si fanno affari. Il problema è un problema che noi non possiamo consentire a un politico con i suoi comportamenti smargiassi e spavaldi che sta sempre nelle tv dalla mattina a sera di degradare l'etica pubblica. Lei quindi non si confronterà mai con lui in televisione. Non faccio show, non faccio pagliossi. Non lo vuole fare. Però tra le varie domande ce ne sono varie... Sono problemi seri, guardi, non sono problemi da show. Però, beh, insomma, non è solo show, eh. Guardi che presentarsi davanti ai cittadini che guardano una trasmissione televisiva non è semplicemente show, è anche fare informazione. I duelli politici ci sono stati da sempre. Scusi, lei ha visto la trasmissione di una sua collega Gruber? Certo. C'è stata una risposta nei contenuti da parte di Matteo Renzi? Questo potrebbe semplicemente avvantaggiarla in un confronto se la pensa così. Ma che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un pollaio davanti ai cittadini. I cittadini, credo, sono persone serie. Si possono divertire per qualche minuto. Ma non è questa la politica che io voglio realizzare con il Movimento 5 Stelle. Senta. Voglio essere chiaro.